Ciao, oggi vediamo degli esercizi di mobilità articolare che possono essere praticati anche in età avanzata. Eseguiamo tutti gli esercizi seduti su una sedia con i piedi ben saldi al pavimento. Eseguiamo le ripetizioni in modo lento e controllato, ma senza mai fermarci tra di loro. Ricordiamoci che sono sempre esercizi di mobilità articolare.